salve a tutti come avevamo promesso nel corso di c'è posto per te eh dedichiamo uno speciale ai referendum eh abrogativi eh tutti in tema di giustizia che eh ci troveremo a votare il dodici giugno. Il dodici giugno non ci sono quindi eh soltanto le elezioni amministrative in particolare nel comune di Agropoli ma anche in altri eh comuni del comprensorio ma eh ci sono anche eh eh i quesiti eh referendari cinque schede di diverso colore che si aggiungeranno alla scheda eh azzurra che è quella delle elezioni amministrative e eh naturalmente c'è tanta confusione rispetto eh a come fare a come regolarsi. Allora la prima indicazione è che eh ci verranno consegnate sei schede. Eh quindi eh cinque schede con i quesiti referendari di colore differente eh al quale rispondere semplicemente sì o no eh e poi la scheda per eh le elezioni amministrative nella quale si dovrà votare per il sindaco per eh il eh le liste eh per una delle liste eh e eh eventualmente indicare eh uno o due consiglieri purché di eh sesso differente. Ma andiamo proprio al eh ai quesiti eh referendari. Eh dicevo sono cinque quesiti in tema di giustizia. Volendo semplificare si potrebbe dire che i promotori dei quesiti referendari eh sono a favore eh di eh un eh atteggiamento più garantista eh i eh sostenitori del no invece eh sostengono appunto una linea più giustizialista. Però questa semplificazione che noi possiamo eh fare in realtà non è proprio corretta perché i quesiti sono molto molto eh differenti tra eh di loro. Toccano eh ambiti eh molto differenti. Allora eh andando ad analizzare le singole schede chiedo ad Andrè di mandare eh in video i cinque quesiti eh referendari. Eh allora la prima scheda è la scheda di colore rosso. Eh nella scheda di colore rosso noi eh troviamo eh la richiesta di abrogazione eh di una norma. Allora tutti e cinque referendum di fatto mirano ad abrogare delle norme esistenti. Quello che cercheremo di fare oggi è quello di capire quali sono le norme che eh vogliono abrogare e soprattutto le conseguenze. Quindi ciascuno poi potrà decidere se è orientato in un senso o in un altro. Allora la eh scheda di colore eh rosso rosa diciamo rosa shocking eh prevede l'abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitiva di condanna per delitti non colposi. Questa norma cosa riguarda? Riguarda è la norma sostanzialmente cosiddetta della legge Severino che prevede che eh gli amministratori particolare gli amministratori locali che eh abbiano subito delle condanne eh per reati eh non colposi quindi stiamo parlando di reati dolosi eh per i quali sia siano stati riconosciuti colpevoli eh eh decadano immediatamente eh dalla carica eh che stanno ricoprendo. Questo anche se ehm la sentenza non è passata in giudicato con tutti i gradi di giudizio. Eh l'obiettivo qual è? È quello di impedire che ehm eh amministratori pubblici possano continuare a ricoprire le eh cariche pubbliche sebbene eh ci sia eh una eh un odore di eh reato che li coinvolga. Sostanzialmente nel nostro ordinamento vige il principio della non colpevolezza fino alla eh sentenza definitiva. Eh però rispetto agli amministratori pubblici qualche anno fa è passata questa logica che un amministratore pubblico debba essere ehm a tal punto trasparente che eh non penda su di lui il sospetto che possa aver commesso dei reati legati comunque alle sue funzioni. Nel caso in cui invece eh sia arrivata una condanna eh non può esercitare più quelle funzioni funzioni pubbliche. Allora chi opta per il no eh ritiene che sia corretto che per gli amministratori pubblici viga una regola più stringente eh rispetto alle proprie condotte. Quindi nel caso in cui appunto eh si è condannati eh c'è l'immediata decadenza dall'incarico. Eh quindi un sindaco che viene condannato per eh corruzione per concussione per peculato eh decade. Eh anche se sono possibili ulteriori gradi di giudizio. Eh nel momento in cui invece si dovesse decidere per il sì eh questo principio non è eh più valido ma soltanto o eh eventuali condanne definitive possono incidere su eh su eh l'esercizio delle funzioni pubbliche. Andando all'altro quesito io eh naturalmente per esigenza di tempo eh non non mi posso dilungare su tanti aspetti ehm quindi eh eh sarà una eh un'analisi molto molto rapida. L'altra eh scheda che invece eh ci verrà data chiedo ad Andrè di mandarla è eh quella gialla e eh riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati. Eh quindi l'abrogazione delle norme in materia dell'ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati. Rispetto a questo dobbiamo dire che eh è in discussione il ehm la riforma Cartabbia, la riforma che prende il nome dall'attuale ministro della giustizia eh Marta Cartabbia che eh prevede una limitazione di questo passaggio di funzioni. Cioè attualmente eh c'è un unico concorso per diventare magistrato. Eh si può eh diventare magistrato con funzioni requirenti quindi il PM la pubblica accusa o si può diventare magistrati con funzioni giudicante ossia il giudice quello che in ambito civile o penale eh o diritto del lavoro eh può eh deve decidere deve emanare una sentenza emettere una sentenza. Allora l'attuale sistema prevede che proprio in virtù del fatto che il concorso di accesso alla magistratura sia un concorso unico nel corso della carriera i magistrati possano passare eh da una funzione all'altra cioè il PM può diventare giudice il giudice può diventare PM naturalmente essendo inquadrato in un procura un tribunale differente da quello nel quale presta presta servizio. La logica qual è? La logica è quella di immaginare che i magistrati abbiano una comune cultura giuridica eh e che il solo l'esercizio delle funzioni fatte sempre nell'interesse dello Stato quindi o la pubblica accusa o il giudizio eh possano sostanzialmente cambiare ma non cambia la razio con cui eh gli stessi devono approcciare alla funzione ossia quella di perseguire i fini di giustizia. Nella realtà naturalmente questo ha portato secondo alcuni ad un ehm ad una mentalità eh eh giudicante eh molto più filo accusa eh ma soprattutto ha creato delle porte girevoli nelle quali i magistrati eh a distanza di poco tempo passano da una funzione a un'altra portandosi un po' dietro eh il retaggio dell'esercizio di quella funzione soprattutto dicevo nel caso in cui sono stati prima PM e poi diventano eh diventano eh giudici. Allora l'obiettivo di questa riforma è impedire questo passaggio cioè c'è una separazione delle carriere si eh eh diventa magistrati si sceglie la funzione e poi si fa il proprio cammino il proprio percorso eh all'interno di quella eh di quella eh di quella funzione di cui quindi si sarà sempre PM si sarà sempre giudici. Allora naturalmente questo è un quesito che eh pone di fronte una eh scelta potremmo dire eh eh ideale eh o ideologica secondo alcuni cioè quella di immaginare che sia più corretto preservare un principio giuridico di condivisione del perseguimento del pubblico interesse da parte di entrambi i rami della magistratura oppure quello che ritiene troppo rischiosa questa commissione e quindi preferibile che eh i i magistrati svolgano eh funzioni diverse senza la possibilità di interscambiarsi eh i ruoli. Allora chi vota sì eh ritiene che questa norma vada abrogata e quindi decada la possibilità per i magistrati di poter cambiare funzioni nel corso della loro carriera chi vota no invece eh intende conservare eh lo stato attuale e quindi la possibilità della ehm del cambio delle funzioni eh tra i magistrati. Questa è la scheda gialla. Andiamo adesso all'altra scheda, la scheda grigia. La scheda grigia eh prevede invece eh il referendum sulla partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, abrogazione di norme in materia di composizione del consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici eh che ne fanno parte. Allora questo quesito che cosa comporta? Comporta che in caso di eh vittoria del sì anche gli avvocati e i professori universitari di materie giuridiche potranno giudicare i magistrati. Eh attualmente invece i magistrati possono essere giudicati soltanto dagli altri magistrati. Eh naturalmente per i promotori questo significa sviluppare una cultura di eh eh valutazione eh che non sia eh chiusa in una casta quella dei magistrati ma che sia appunto aperta anche alla valutazione degli altri operatori del diritto. Chi sostiene invece il no? Ritiene che questa possibilità possa compromettere eh la separazione eh possa condizionare anche i magistrati rispetto a quegli avvocati e quei professori universitali che invece possono esercitare eh un forte ascendente e anche una capacità di giudizio e anche eventualmente questo è un tema concreto favorire questi ultimi rispetto alla loro capacità di operare nel libero mercato. Quindi c'è anche l'altro lato della medaglia. Allora eh naturalmente eh è un quesito molto delicato anche questo eh rispetto al quale eh quindi i promotori del sì prevedono appunto eh che eh i magistrati possano essere giudicati da eh anche dagli altri soggetti operatori di diritto quindi avvocati e professori universitari i sostenitori del no invece ritengono che sia corretto lasciare le cose come stanno e che quindi i magistrati conservino la eh prerogativa di essere valutati esclusivamente dai loro eh pari gradi. Andiamo poi ehm su un'altra modifica proposta che è quella della scheda verde che è quella della riforma del CSM eh il quesito di quando andrei di mandare un'altra volta la scheda eh abrogazione di norma in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura eh che cosa prevede? Cioè il il CSM è composto sia da rappresentanti eletti dai magistrati sia da rappresentanti eletti dal Parlamento. Il CSM è l'organo che giudica i giudici sostanzialmente. Ehm la riforma proposta quindi eh prevede che eh i magistrati per candidarsi a quest'organo quindi al Consiglio Superiore della Magistratura non abbiano più bisogno di avere un numero minimo di firme per presentare la propria candidatura eh mentre attualmente è previsto un numero minimo di firme. Che cosa ha comportato questo? Questo ha comportato che i magistrati si organizzassero in eh eh corporazioni, in partiti. Cioè noi abbiamo la corrente dei magistrati di sinistra, la corrente dei magistrati di destra, la corrente dei magistrati indipendenti, la corrente di sostanzialmente si è molto politicizzato eh la possibilità di accedere al CSM e questo anche con dei risvolti di carriera perché naturalmente la carriera poi dei magistrati è fortemente condizionata anche all'appartenenza o meno ad una delle correnti eh che ha maggior peso nel CSM. Eh chi è realmente indipendente in questo momento non può candidarsi al CSM, non può fare il battitore libero proprio perché non fa parte di un gruppo eh allora i sostenitori del sì ritengono che questa politicizzazione del CSM è una caratterizzazione comunque ideologica quasi partitica del dei dei magistrati sia nociva proprio per eh il carattere stesso della funzione eh del magistrato perché eh si politicizzano anche le carriere con conseguenze anche sulla libertà dei magistrati di giudicare sia i politici sia i propri colleghi eh i sostenitori del no invece ritengono che la magistratura eh debba essere preservata eh da eh eh battitori liberi che potrebbero eh sostanzialmente eh condizionare eh diciamo il libero confronto tra i magistrati stessi. C'è da dire che anche su questo punto la riforma cartabbia sta intervenendo però indubbiamente questo resta uno dei temi cruciali anche perché è a questa vicenda a questa eh dinamica che eh si lega anche la vicenda del caso Palamara eh che abbiamo ehm vissuto eh negli ultimi anni e con lui ad altri casi di politicizzazione delle carriere dei magistrati quindi chi è a favore del Siti tiene che eh non ci sia più bisogno del eh numero minimo per candidarsi al CSM quindi eh auspicando quindi delle corse non politicizzate al maggiore organo eh della giustizia eh interno della eh magistratura e eh invece i sostenitori del no ritengono che questa modifica possa essere dannosa proprio per eh eh l'equilibrio del sistema. Ultima scheda che noi abbiamo è la scheda di colore arancione quindi mandiamo ehm la scheda di colore arancione sostanzialmente riguarda le misure eh cautelari intende eh abrogare parte della norma relativa proprio alle misure cautelari quindi limitazione delle misure cautelari, abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo duecentosettantaquattro comma uno lettera C del codice di procedure penale in materia di misura cautelare e segnatamente di esigenze cautelari nel processo penale. Nella sostanza che cosa eh prevede il quesito? I sostenitori del sì ritengono che eh per eh disporre le misure cautelari ossia per intenderci l'arresto di un soggetto prima che sia arrivato il giudizio di condanna eh debbano eh ricorrere esclusivamente i presupposti del rischio del pericolo di fuga eh o di inquinamento delle prove. Quindi in questo caso il giudice può disporre la misura cautelare della custodia cautelare. Eh l'altro elemento che invece attualmente prevede il codice di procedura penale è il pericolo di reiterazione del reato cioè della ripetizione del reato. Quindi eh i sostenitori del sì ritengono che la reitera il rischio di ripetizione del reato non debba eh eh imporre la misura cautelare. Eh invece i sostenitori del no ritengono che eh la misura cautelare si giustifichi anche per la reiterazione del reato. Andando nel concreto che cosa significa? Significa che non resta in discussione il fatto che la misura cautelare si possa applicare a chi eh opera eh in un dato settore e eh se continua a eh ad operare in quel settore ad avere la libertà di operare in quel settore può inquinare le prove del reato che eh eventualmente ha commesso. Oppure possa fuggire. Immaginiamo delle persone che abbiano ampie disponibilità economiche e che quindi possono scappare per sottrarsi al eh giudizio. Eh queste due eh ipotesi rimangono, non sono toccate dal quesito. Quella che è in discussione è la reiterazione del reato. Allora ehm riguarda eh a questo proposito eh soprattutto reati di forte allarme sociale. Allora i promotori si sostengono che la reiterazione del reato sia un escamotage abusato dai ehm dai magistrati per poter applicare la custodia cautelare. Eh i sostenitori del no invece ritengono che proprio per l'allarme sociale che alcuni reati hanno anche se non c'è il rischio di inquinamento e il pericolo di fuga però eh quella persona immaginiamo il eh il truffatore immaginiamo lo stalker immaginiamo ehm eh chi eh anche eh per dire il 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 ladro abituale eh a seconda della diversa gravità dobbiamo dire poi delle delle condotte che questa poi è rimessa ai giudici eh allora o o una persona che ehm eh per cui eh eh c'è una una eh un'ipotesi di reato regata a a condotte violente. Allora eh la reitera il rischio di reiterazione del reato eh comporta la possibilità per il magistrato di disporre la misura cautelare quindi di bloccare mettendoli in carcere sostanzialmente la persona dalla possibilità di ricommettere lo stesso reato. Questo naturalmente eh per eh soprattutto per il forte impatto sociale dicevamo proprio per la natura dei eh delle condotte eh che eh possono essere oggetto di misura cautelare. Indubbiamente i promotori del sì invece sostengono che eh di fatto questo è un eh un margine molto ampio che viene dato al magistrato e a volte si abusa eh di questa eh misura cautelare. Allora quello che bisognerà decidere è con il sì se abrogare questa norma quindi che prevede che la misura cautelare si possa esercitare anche eh nel caso di rischio di reiterazione del reato di ripetizione del reato oppure se vince il no rimarrà eh tutto così eh tutto così come quindi ricapitolando eh il sì eh prevede che il rischio di ripetizione del reato non sia un motivo sufficiente per disporre in via preventiva il carcere per una persona che è sospettata di un reato eh se vince il no invece i magistrati potranno valutare eh se ricorrono i presupposti perché quella persona possa essere bloccata in carcere dal rischio di poter eh rifare eh ricommettere il reato per cui è accusato. Allora come abbiamo visto sono dei quesiti eh molto molto eh tecnici eh ricapitolandoli eh quindi io spero che abbiate un po' preso appunti e vi siate fatta un po' un'idea eh le schede sono quella rossa o rosa shocking diciamo eh quella gialla quella grigia quella verde e quella arancione allora la scheda rossa eh riguarda eh per semplificare la decadenza dalle cariche pubbliche di chi è condannato eh se vince il sì non ci sarà più la decadenza se vince il no resta la decadenza legge Severino. Scheda gialla eh separazione delle funzioni tra eh magistrati eh tra giudici e PM. Quindi se vince il sì non sarà più possibile passare per un magistrato da eh l'essere PM all'essere giudice o dall'essere giudice all'essere PM. Se vince il no invece i magistrati potranno eh nel corso della loro carriera cambiare eh le funzioni eh eh periodicamente. Sulla valutazione dei magistrati scheda grigia. I magistrati devono essere valutati anche dai gli avvocati e dai professori universitari? Se si è favorevoli si vota sì. Se invece si è contrario cioè si vuole che i magistrati siano valutati solo dai magistrati si votano. Eh scheda verde eh i magistrati possono candidarsi eh al consiglio superiore della magistratura anche senza appartenere ad una corrente della magistratura, una corrente politica della magistratura se si vota sì eh i magistrati non avranno più bisogno delle firme minime, se si vota no invece si eh lascia la situazione attuale nella quale i magistrati hanno bisogno di un numero minimo di firme e quindi devono di fatto appartenere ad una corrente per potersi candidare al consiglio superiore della magistratura. Ultima scheda è quella arancione, quella eh che riguarda eh l'esercizio delle misure cautelari eh se vince il sì le misure cautelari non potranno essere applicate eh per eh quindi non si potrà mettere in carcere prima della sentenza una persona che ha commesso o si sospetta abbia commesso un reato ritenuto meno grave ma non per questo di minore impatto sociale nel caso in cui ehm ci sia il rischio della ripetizione del reato ma non ci sia né il rischio di fuga né il rischio di inquinamento delle prove. Quindi se vince il sì rimane solo il rischio di fuga e l'inquinamento delle prove. Nel caso in cui vince il no invece rimarrà eh la fattispecie eh attuale quindi con la possibilità quindi di applicare le misure cautelari sia in caso di pericolo di fuga sia in caso di ehm inquinamento delle prove sia in caso di rischio di reiterazione eh del reato. Allora abbiamo finito questa panoramica. L'invito naturalmente anche ehm per facilitare poi il lavoro dei eh dei seggi di gare è quello di prendere tutte le schede, di non rifiutare le schede anche se questa è una possibilità che è prevista ma che va verbalizzata quindi appesantirebbe molto anche eh i lavori eh sia di verbalizzazione che di spoglio. Eh eh quindi prendere le schede e votare sì o no a seconda del proprio orientamento rispetto ai quesiti formulati. Allora questo è l'approfondimento che vi avevamo promesso sui referendum. Spero che eh sia stato utile ad avere una panoramica e poter seguire le proprie inclinazioni nella valutazione del sì o del no al referendum. Ricordiamo anche in chiusura come si vota invece per le amministrative. Per le amministrative si avrà una scheda di colore azzurro nella quale innanzitutto va messa una croce sul candidato sindaco. Si metterà una croce per scegliere il sindaco. Quindi noi abbiamo eh i i quattro candidati eh Raffaele Pesce ehm Roberto Mutali Passi, Massimo Laporta e Elvira Serra. Quindi si mette una croce sul sindaco. Una volta fatta questa operazione già la scheda sarebbe valida di per sé. Ma eh c'è un voto valido espresso. Si può esprimere un altro voto, ossia mettere una croce su una delle liste. La lista può essere collegata al candidato sindaco, quindi nello stesso riquadro. Quindi si metterà una croce su una delle liste di uno dei candidati e in questo modo si esprimerà la preferenza per una lista. Accanto alla preferenza per la lista si possono indicare uno o due nomi di candidati che sono presenti in quella lista. Cioè si può indicare un nome maschile, un cognome di una persona di sesso maschile candidata, una persona di sesso femminile candidata oppure due preferenze accanto al simbolo che si è barrato della lista che si è scelta. In quel caso si potrà votare anche eh una un candidato di sesso maschile e un candidato di sesso femminile purché entrambi siano eh all'interno candidati all'interno della stessa lista. Allora alle elezioni amministrative esiste il voto disgiunto cioè si può votare il candidato consigliere e una lista differente rispetto al candidato sindaco. Quindi si può votare un candidato e si può votare un sindaco diverso o viceversa. Si vota un sindaco ma poi si sceglie un candidato consigliere che appartiene ad un'altra coalizione. Il voto così espresso quindi con una croce sul candidato sindaco con una croce sul simbolo di una sola lista e con l'indicazione delle preferenze a consigliere tra i candidati di quella lista di un nome maschile o di un nome femminile oppure di un nome maschile e di un nome femminile purché candidati nella stessa lista. Ciascuno di questi voti è valido. Quindi si può eh tranquillamente votare eh votare in maniera consapevole e liberamente si può scegliere sia il sindaco sia la lista e i candidati consiglieri eh presentatisi all'interno di quella lista. Quindi speriamo che anche con questo eh chiarimento di aver aiutato quanti eh alle prese con le elezioni amministrative si troveranno a votare sicuramente è impegnativo ricevere sei schede però ricordiamo le prime cinque di colori diversi abbiamo visto si vota semplicemente sì o no oppure si può anche non votare scheda bianca il voto è valido eh eh e poi c'è la scheda per le amministrative nella quale si possono esprimere la preferenza per il sindaco la preferenza per una lista collegata al sindaco o non collegata a quel sindaco ma ad un altro e indicare le preferenze massimo due purché di sesso differente presenti nella medesima lista. Allora non resta che augurare a voi tutti buon voto e naturalmente noi ci rivedremo su Cilento Channel per lo spoglio che avverrà per quanto riguarda il referendum non lo seguiremo in diretta avverrà la stesso la notte del eh dodici di giugno mentre lo spoglio per le amministrative avverrà in diretta nel pomeriggio del tredici giugno eh eh a reti unificate possiamo dire tra la redazione di Cilento Channel e quella di Info Cilento.